Giornata di visite in Casa Neroverde. In un caldo pomeriggio di giugno Antonino Barilà ha incontrato i ragazzi del settore giovanile della Villese. L'ex calciatore della Regina, ora in forza al Trapani, è stata a completa disposizione dei ragazzi per l'intera durata dell'evento. Paolo Messina lo ha intervistato per Costa Viola News per parlare del glorioso passato in Maglia Maranto, del presente tra promozione sfumata prima e retrocessione poi con il Trapani e del futuro con novità di mercato e un possibile interesse verso la Villese. È sempre bello poter tornare nella propria terra e incontrare dei bambini che sognano gli alti livelli del calcio. Cosa consigli a questi bambini sognatori? Adesso è ancora presto per consigliare qualcosa, però sicuramente la voglia, già si vede da come giocano, si divertono, l'importante è quello. Poi a mano a mano che si cresce, crescono gli obiettivi, cresce la voglia di poter dimostrare, di farsi valere magari in campionati più alti. Dopodiché, come dico sempre, ci vuole sempre la fortuna e la possibilità di giocarsi le proprie chance nelle categorie che contano. Quindi dico solo di divertirsi e di coltivare un sogno che non è impossibile, perché ad oggi non è più impossibile come prima arrivare ad ambire la Serie A. La vita è molto più facile, però a differenza di qualche anno fa è più difficile mantenerlo, quindi per mantenere una professione, un lavoro, ci vuole sempre l'umiltà, l'impegno, la dedizione. Quindi c'è un mix di cose e soprattutto la fortuna, quindi dico solo ai ragazzi di divertirsi e di coltivare il loro sogno. Villa è una bella realtà, è una bella fucina di talenti, cosa ne pensi? Sì, guarda, io mi sono avvicinato a Villa grazie a mio padre che soprattutto nell'ultimo mese ha cominciato a parlarmi sempre più spesso di questo progetto che stanno per affrontare. Quindi sono molto contento e niente, faccio in bocca al lupo a tutti e a tutti i ragazzi. A Reggio e alla Regina hai passato tante stagioni, ti hanno lasciato tanto. Qual è il ricordo più bello, più nido con la maglia Maranto? I ricordi sono tanti perché le salvezze ce ne sono state tante, alcune belle, altre un po' meno, però la salvezza è sempre salvezza. Il ricordo più bello è il primo gol che ho fatto in Serie A Buffon, perché questo era scontato. Quindi, e niente, Reggio spero che con questa nuova società e con l'apporto di nuovi soci magari possa tornare ad ambire a campionati più prestigiosi. Adesso il presente si parla di Trapani, nelle ultime stagioni tante gioie ma anche tanti dolori. L'anno scorso una promozione in Serie A sfiorata solamente, mancata solamente all'ultimo in finale contro il Pescara. Poi quest'anno la retrocessione, come te la spieghi questa metamorfosi? Purtroppo le annate sono queste, purtroppo nel calcio nulla è scritto. Un anno lotti per vincere, un anno rischi di retrocedere o retrocedi. Purtroppo quest'anno è partita male, ci sono state un po' di cose che magari sono andate diversamente dall'anno scorso. Abbiamo cercato di riadrizzarla fino alla fine, però non ci siamo riusciti. Vabbè, il calcio è pure questo, quindi ci sono vittorie, ci sono sconfitte. L'accettiamo. Adesso il futuro, si parla anche di un possibile approdo tuo al Parma, il mercato cosa dice? No, per ora il mercato tutto è chiacchiere. Quindi per ora mi gioco col bambino fino ai primi di luglio, dopo luglio vediamo un po' cosa fare.